Questo è un posto abitato dagli umili dove questo lo puoi fare e mi piace venire qui anche perché c'è sempre il stesso calore del cuoco, che si sente anche nei giorni normali. E lui è venuto qua, ritrovato la stessa umiltà, la stessa pace e pensando per Paolo non immagino un altro posto dove lui potesse morire perché evidentemente è qua. Lui pensava di poter abbassare le sue difese. Io credo appunto che l'idroscalo, pur essendo a volte a rischio, dimostra che il legame con un territorio e con una comunità è quello che un po' riempie la vita. Non so quanti lasceranno queste case e andranno a abitare nei palazzi, ma credo che tornare qui sarà sempre riprendere una certa vita, una vita diversa da quella che si fa nelle città, nelle periferie anonime. Per cui ringrazio anch'io la comunità precedente in particolare che ci permette di fare questa esperienza quando lo desideriamo. Per cui ringrazio anch'io la comunità precedente in particolare.